Marco Venturini, amministratore delegato di Enel X per Affari Italiani. Oggi si è accennato alle cinque aree del nuovo piano industriale di Enel X. Possiamo accennarle? Sì, in realtà il business di Enel X è concentrato sostanzialmente su cinque parti fondamentali. Uno è quella della parte infrastruttura urbana, l'altra è fibra ottica, in particolare in America Latina. Ci focalizziamo su tutto quello che è flessibilità, ormai siamo tra i più grandi players della flessibilità di mercato, in tutta la parte di demand side management. Facciamo efficienza energetica, dove efficienza energetica si può fare perché esiste un mercato che ti permette di farlo in maniera solida. E poi sostanzialmente la quinta, la più importante e forse, quantomeno la più visibile, che è tutta la parte di mobilità elettrica.